ok black jacks black jacks al black jacks all in all in andiamo di un ragazzi chi devo pisciare guys io devo pisciare come un dannato io devo pisciare di brutto raga porco diaz non ci faccio più vado faccio sta puntata perdo sti 14 euro e vado a pisciare raga perché non ci faccio più cazzo mi scappa troppo mi scappa troppo raga non ci faccio più non ci faccio più lo faccio tris beh ragazzi questa è la mia vita questa è la mia vita come potete vedere ragazzi questa è la mia vita questa è la mia vita di merda potevo metterle un euro sulle side cazzo pensavo facesse black jack pensavo fosse così stronza da fare black jack invece no me l'ha fatta pure vincere incredibile questa è la mia vita ragazzi ci sta eh ci sta nel senso io lo accetto lo accetto perché è quello che mi merito è quello che è giusto che succeda a me stesso alla mia persona di merda ok è giusto così raga adesso speriamo che mi dia tipo una streak da 8 così posso tornare a 10.000 17 contro il 2 stiamo una streak da 8 cucciola è molto semplice dai 12 22 incredibile la cucciola push 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 incredibile guys ma avete speso bene soldi delle donation eh ragazzi sì per forza eh cazzo l'avete speso benissimo penso che cosa sia eh cazzo ottimo content eh abbiamo fatto push abbiamo fatto tris e push un 10 guarda copia perfetta no 20 però solido ora cucciola non si sta comportando male eh non ci sta comportando male cazzo faccio un altro l'in se la vinco se dovessi vincerla mi auguri sì cazzo abbiamo un 20 solidissimo contro un 9 dai non fa cazzate mo c'ha il 7 4 va bene all in guys grazie emiliana gabo ho vinto 500 con un gratta da 10 euro un bacio e una leccata fortissima sulla cappella bella minchia emiliana porco diazze le stelle si sono incrociate si sono allineate tutte per quante per per farti fare questa vincita sono contento proprio ci sta dai molto goloso molto goloso minchia se ce n'è un'altra un 7 eh mi sa che è tutto finito guys e invece forse non potrebbe essere tutto finito vediamo se mi dà un 10 è goloso se mi dà un 10 è goloso dai non mi dà un 10 un 5 che peccato raga io ci avevo creduto in questa follia però mi sa che la cucciola ci scamma così attenzione un 2 ti prego cucciolina ci cucciolina siamo ancora pipì siamo vivi siamo vivi guys god frasto scorso cecchiamo cerchiamocelo ragazzo dal caccogo c'è la raga adesso giochiamocelo giochiamocela giochiamocela 무조 inc presque vulgolis 형a non significa una scala una scala a va bene, cucciola, è solido, a gratis, 14 contro il 7, cosa faccio? Sto, 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 vai, dai, sballa, cucciolina, 8, va bene, devi sballare, cucciola, eh, no, sei una stronza, sei, che stronzetta, minchia, se chiamavo e andavo a 20, eh, sono un gogliones, sono un gogliones, va bene, va bene, a gratis, a gratis, a gratis, ritira 14, ritiro lo start, raga, dite, dite di ritirare lo start, guys, ha fatto pass, no, non ha fatto pass, bro, eh, in parte sì, con quella scala ha fatto pass, minchia, 7 di side, il brother di fianco, oddio, fa la follia, ti immagini? Cazzolina, 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 eh, cazzolina, raga, cazzo, minchia, stavo credendo, raga, vi giuro, dai, raddoppio pure io, faccio la stronzata e raddoppio pure io, un 10, aiuto, aiuto, devi sballare, cucciola, devi sballare, aiuto, sì, cucciola, ma dove l'ho tirati fuori questi 170, raga, facciamo l'ultima, arriviamo a 150, poi vado il blacky, poi vado il blacky, ragazzi, vado il blacky, uh, questi 140, 150, ragazzi, start a 14, siamo per 10, abbiamo fatto per 10 dello start, guys, non succede spesso di essere così in profit, non succede spesso, grazie tonno, per i 2-3 mesi, però ben tornato, oh, un altro crazzi, no, troppo difficile, il 10 dopo il crazzi, il 10 dopo il crazzi, è lì, è lì che ci chiama, è lì che ci chiama, spingilo un po', è lì che ci chiama, tutto bello per noi, tutto bello per noi, cazzo, tutto bello per noi, cazzo, e si gode, e si gode, e si gode, e si gode, e, 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 abbiamo detto, porco dio, insieme, molto, molto brutta come cosa, ragazzi, non bestemmiate, non voglio incentivarvi a bestemmiare, non sono questo io, non sono un diseducatore di voi giovani, alziamo la puntata, azzardiamo, 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 guys. Oddio, oddio cucciolo, il 10 dopo il coinflips, fallo, fallo per noi, fallo per noi Ludo, fallo per noi Ludo, fallo per noi Ludo, l'ha fatto, l'ha fatto, cazzo, l'ha fatto, cazzo, l'ha fatto, cazzo, l'ha fatto, cazzo, l'ha fatto, l'ha fatto, l'ha fatto, porca pappa, con 14 euro, siamo qua a sognare, siamo qua a sognare, con 14 euro, perché bisogna sempre rimanere umili nella vita, non bisogna mai fare gli spavaldi, sempre con umiltà, sempre con umiltà, sempre con umiltà, cazzo.